Ruota essenzialmente attorno alle infrastrutture il piano del governo regionale per l'utilizzo della quota parte dei finanziamenti del Recovery Fund europeo destinata all'Abruzzo. 73 proposte progettuali per 7 miliardi e mezzo di euro su cui sta lavorando una cabina di regia e che ieri il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha illustrato a Palazzo Silone all'Aquila in un incontro con i sindacati e i rappresentanti di categoria. Il piano si prefigge di ridurre il gap infrastrutturale con le regioni più avanzate d'Italia attraverso il potenziamento della rete ferroviaria, degli interporti di Avezzano e Manopello, dei porti di Pescara-Ortone e Vasto e attraverso il completamento della rete TNT. C'è poi anche il capitolo dedicato alla viabilità ordinaria e soprattutto agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Speriamo che il governo sappia valorizzare il lavoro che le regioni stanno facendo. Noi nella prossima settimana continueremo a fare la scrematura, sono arrivate dai nostri dipartimenti oltre 70 progetti per almeno 7 miliardi e mezzo di spese. È chiaro che l'Abruzzo non potrà avere tutti questi soldi, magari fosse, se l'Europa ne desse di più e l'Italia e il governo nazionale ne desse di più saremmo comunque pronti a spenderli a farli camminare, però dobbiamo anche fare i conti con quelle che sono le distribuzioni e le ripartizioni delle risorse e quindi adesso il nostro lavoro sarà anche scremare e selezionare questi progetti per dare le priorità in ordine alla definizione, premiando quelli che hanno una definizione progettuale più elevata, una più facile e immediata cantieri abilitare. Intanto anche l'aeroporto d'Abruzzo si unisce all'appello al governo ad inserire le infrastrutture aeroportuali nel Recovery Fund, così come chiesto da Sereo Porti, che ricorda come le infrastrutture aeroportuali siano essenziali in un piano di sviluppo della mobilità integrato, sostenibile e interconnesso.